un'altra cosa però CiccioGamer89 è anche alle volte il centro delle polemiche solo alle volte? quasi sempre puttanazza la miseria ti dico la prima che poi io ho reactato a questa cosa ho detto la mia la prima era quella famosa che diventava un meme che era un minuto un minuto dieci secondi quella della maratona è un euro dieci secondi io sono un escort molto costosa cioè io l'ho detto ma io parlo chiaro con chi mi segue io sai che c'è Rubì io sono una persona molto chiara io vi faccio le live dalle otto e mezza alle undici non ci sono problemi mi volete vedere di più? community sta a voi fare gioco di forza e far sì che io sto di più perché se no io stacco cioè questa è una cosa in più che decide la chat non me ne frega niente perché io questa mattina mi sono fatto due ore e mezza di live non ho detto niente a nessuno mi sono messo ma perché mi fa piacere non ho chiesto niente a nessuno se dopo alle undici e mezza io voglio andare a dormire e voi sparate 300 euro mi parte la maratona estendibile ma questo dipende da voi perché comunque per me è un lavoro certo non obblighi tu dici questo è così questo è così se no mi mandate a cagare va bene uguale ok ok infatti io quello che ho detto io per me è troppo però quello è il tuo è quello il tuo valore di mercato tu ti dai questo valore di mercato il canale è il tuo quello che vuoi fare comunque lo fai io non lo farei perché secondo me è troppo però è una decisione tua cioè tu non ho sai qual è il problema sai qual è il problema ti spiego perché ho messo così tanto perché se io mettessi di meno a me mi fanno sta un anno in live capito cioè regà io io cammino sempre su un filo del rasoio io devo avere dei benefici e devo dare il mio servizio se calo regà io vi garantisco che sto 5 anni in live e non è possibile quindi io affrono proprio perché ti dico che io devo fare tanti contenuti in questo periodo sto investendo tanto anche in attrezzature nuove eccetera eccetera io devo comunque sopprimere un po' questa possibilità che do ok però non succede niente se non mi donano perché io l'altro giorno ho fatto una 12 ore da mezzogiorno a mezzanotte non ho chiesto cioè era perché mi andava di farlo cioè non andassi mai live e chiedessi di questo supporto allora sarei uno stronzo ma dato che il mio lo faccio da anni il mio lo faccio da anni io penso che semplicemente ho deciso così boh sono troppo costoso e vabbè sono un escort che si fa pagare tanto ci puoi andare non ci puoi andare sta a te sì sì ma l'importante è che non passi il messaggio che comunque uno obbliga un conto è dire oh me devi da un euro no mai detto mai detto e mai lo farò mai detto e mai lo farò mai non mi permetterei mai non mi permetterei mai io dico io così non ce la farei però ognuno il canale il canale è il tuo ognuno prende le proprie decisioni ognuno sa come gestire il tutto poi tu ormai quant'è sono dieci anni che stai sul web no ma io sai che c'è io ho parlato chiaro con la mia chat io parlo molto molto chiaro io ho detto ragazzi e ragazze voi non siete obbligati a fare niente vi fa piacere farlo mi volete supportare bene tanto è vero che quando poi arriva la donazione grande io in realtà faccio va bene adesso me l'hai fatta ma sarei molto più contento se tutta la community si mettesse a fare qualcosa ad esempio se siamo 5.000 spettatori e ogni di questo spettatore donasse un euro sono 5.000 euro ma questo io cerco di insegnarlo anche se vengono live da te o se vanno live da altre persone perché si aspetta sempre la singola persona che si deve far carico di tutto quanto se invece si fa gioco di community le cose escono molto più facilmente beh ci sta infatti ragazzi siamo 3.000 un euro per uno vi ho 3.000 euro eh capito io sì sì intanto lui si becca 3.000 euro è più contento grazie un euro per uno grazie io sono money grabber grazie ma pure la cosa della storia del money grabber ragazzi m'ho letto ma raga non è che io cioè attrezzatura apago sul grazie o comunque ognuno di noi fa un lavoro ok e se e io vi ringrazio tutti i giorni perché mi supportate tutti i giorni ieri abbiamo fatto il macello grazie Luca e e sto contento di questo però quelli che ancora dicono money grabber ragazzi non è che io mi compri telecamere col sorrubino oppure pagare bollette e faccio sorrubino naturalmente qualcosa mi devo portare a casa oppure con tutti noi no ma ragazzi ma poi vedo che te mette in testa che rubino come me come altri non si sa per quanto tempo potranno fare questo lavoro cioè io lo spero per tutta la vita ma un calciatore i vostri grandissimi idoli guadagnano miliardi e miliardi perché loro a 30 anni se ne vanno in pensione o poi se sbaglio ditemelo perché non vorrei mai che poi a un certo momento te dicono pure a te che tu stai zitto e non mi vieni contro no 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 cioè io parlo così quindi in realtà grazie per l'un euro dai cazzo rubini iniziamo costi 3 mila euro se ha una disponibilità economica maggiore grazie a chi lo segue io non vedo niente di sbagliato regà io vi voglio fare vi faccio un discorso no la prendo qua io comunque questa strassata l'ho pagata 700 euro questa qua è normale che comunque usufruisco anche dei soldi che mi vengono date dalle persone vi faccio un esempio ci sta che si fa una cosa di community per acquistare un bene che poi si utilizzerà nel canale se io questi soldi li utilizzassi vi dico la mia per andare a giocare le macchinette no se t'hanno dato un euro io faccio così e spreco un euro a me personalmente non sarebbe carino ma se so che con una live due live tre live le persone sanno che fisicamente c'è un oggetto che hanno acquistato loro per far sì che io possa portare dei contenuti secondo me è anche carino no parlo sempre della mia parlo sempre della mia quindi tutto quello che si fa si fa per portare dei miglioramenti uno dice si vabbè ma tu c'hai 3 milioni e mezzo di iscritti non c'entra un cazzo perché più vai avanti e più devi cercare di portare contenuto e poi ripeto se anche fosse che mi li metto da parte o me li spendo per i cazzi miei è lo stesso se vi va di farlo lo fate se no siete liberissimi di non farlo i miei video li avrete sempre il mio intrattenimento lo avrete sempre io la penso così pure io la penso così io la maggior parte dei soldi delle donazioni delle sub io le spendo spendo tutto per per lo studio poi l'ho sempre detto ma sarebbe uguale pure se ci siamo a mignotte nel senso se sto di una cavolata a prescindere su soldi che uno ti dona per chi si sente di donare quello che ci fai ci fai io ho fatto l'esempio delle macchinette perché pure mio fratello gioca le macchinette so cazzi sua ciò non toglie che però se a me vincenzo che sta in chat mi dona un euro e io sto euro faccio così e lo perdo è diverso che di vincenzo qua dentro c'è sta l'euro tuo vabbè si sono due cose diverte il mio mio assolutamente mia roba a me mi hanno regalato la play 5 la chat mia so contento ecco vedi è bello tu sai che la tua chat in questo momento sai che dentro il tuo ufficio ci sta la playstation 5 grazie a loro per me è una cosa bellissima che si faceva tanto tempo fa no e questo che io ho messo in mezzo gioca perché mi fratello se mi posso permettere di parlare di qualcuno è proprio di mi fratello che so cose che già io ho detto anche a Simone però ho detto mi fratello proprio perché io voglio bene eccetera eccetera è mi fratello quindi posso di quello che cazzo che mi pare è Grazie a tutti per aver guardato il video.